La scuola è il terreno fertile nel quale seminare e dobbiamo avere fiducia che si riesca a raggiungere l'obiettivo. E l'obiettivo è stato raggiunto perché la battaglia contro la violenza di genere deve tassativamente passare attraverso una costante campagna di educazione, di sensibilizzazione innanzitutto tra i più giovani, terreno fertile e principali utilizzatori di mezzi importanti per l'informazione, spesso purtroppo viziata, come internet e di social. L'iniziativa che ha avuto luogo stamane nell'Istituto Paesi Rettici di Sondrio, con la premiazione di tre classi delle scuole medie, autrici di altrettanti elaborati in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è dunque un tassello importante nel grande mosaico dell'educazione al rispetto e all'uguaglianza. Io sono grata all'amministrazione che ha offerto la possibilità di partecipare a questo concorso, ancora più grata agli insegnanti che hanno saputo motivare gli studenti, che hanno poi prodotto questi manifesti che sono stati molto apprezzati e che sono stati pubblicati anche sul sito del Comune. A consegnare i riconoscimenti ai ragazzi delle classi prima D, terza D e terza C, l'assessore alla cultura, educazione e distruzione Marcella Fratta, assieme al consigliere Maria Silvana Cattaneo. Sono anche i più giovani stessi che possono portare un buon messaggio alla famiglia e quindi questo aspetto educativo deve essere assolutamente sottolineato. E noi come Comune abbiamo proposto questo concorso, questo l'Istituto Paesi Retici con l'insegnante Mortarella ha risposto molto positivamente e utilizzeremo questi elaborati proprio nella comunicazione che noi vorremmo fare nei nostri eventi su queste tematiche. I giovani entrano così a far parte integrante della promozione della rete antiviolenza, di cui dal 2014 il Comune di Sondrio si fa portavoce. Un circuito finalizzato a migliorare la capacità di intervento delle istituzioni a favore delle donne vittime di violenza, in cui sono coinvolti diversi attori del territorio e che sette anni fa ha portato alla firma del protocollo d'intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne. Tra queste strategie anche la promozione del servizio pubblico telefonico del 1522, che accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto a sostegno delle vittime di violenza e stalking. I ragazzi delle prime abbiamo analizzato la figura femminile dal punto di vista del viso, del ritratto, quindi un'attenzione alla figura umana. Nelle classi terze il messaggio è stato affrontato in modo più esplicito, i ragazzi sono stati invitati a riflettere sul tema della violenza di genere e hanno prodotto dei manifesti con un'immagine rappresentativa e uno slogan che invitasse appunto a riflettere sul tema del 25 novembre. L'incontro di questa mattina è stato inoltre occasione per altri due momenti, lo svelamento di un manoscritto autografo di Luigi Torelli, patriota risorgimentale nativo di Villa di Tirano, e la presentazione di un'altra iniziativa multimediale portata avanti da insegnanti e studenti della Scuola Media Sondriese, affiancati dal Comune del Capoluogo in un progetto di riscoperta che associa ai nomi del risorgimento italiano, quelli delle vie della città. Lanciata durante la premiazione l'idea di intitolare una strada cittadina a Nicola Mevio, giovane eroe risorgimentale originario di Bianzone. Ho apprezzato molto il lavoro, ho apprezzato molto l'entusiasmo degli insegnanti e la loro competenza e il lavoro dei ragazzi, sono molto soddisfatta.